Questa è la settimana più epica, penso, di quest'anno, perlomeno fino adesso, su GTA Online per quanto riguarda l'aggiornamento settimanale, raga. Mi raccomando, guardate tutto il video perché vi spiego nel dettaglio tutti i veicoli gratis, vi spiego gli sconti che hanno messo che sono veramente potentissimi e vi spiego anche come fare soldi perché ci sono veramente degli ottimi cosi che hanno aggiunto per poter fare soldi. Dei soldi ad RP doppi in più sugli stabilimenti dell'MC, ma ve lo spiego meglio dopo. Mi raccomando quindi, prima di iniziare, l'unica cosa che vi chiedo è lasciare un like, andate qua sotto, cerchiamo di arrivare e superare i 1000 like per questo video, ve ne sarei veramente molto molto grato, andate qua sotto, lasciate like, ci vuole veramente un secondo e mi date una grandissima mano. E per chi di voi fosse nuovo, mi raccomando, iscrivetevi, qua sotto c'è il tasto iscriviti, attiva la campanella delle notifiche, così ti arriva sempre la notifica quando esce un nuovo video e soprattutto vi ricordo che sono in live ogni sera a partire dalle 18 qui su YouTube fino alle 20 e 30. Quindi attivate la campanella così appena sono in live vi arriva la notifica. Bella a tutti ragazzi, io sono Adri e benvenuti in questo nuovissimo video. Aggiornamento, come vi ho detto all'inizio, ci sono veramente delle ottime cose. Io direi di partire subito col veicolo nuovo che è anche gratis tra l'altro, questo qui il Verus, che praticamente hanno aggiunto il costo di 192.000 dollari, se lo prendete adesso è gratis. Quindi lo acquistiamo subito e lo mettiamo nella Clubhouse, visto che lo possiamo mettere nella Clubhouse lo andiamo a mettere lì. Completamente gratis, quindi ripeto, approfittatene, prendetelo subito perché non pagate niente. Quindi visto che è gratis, prendetelo subito. Poi rimaniamo qui sul Warstock, vediamo subito le altre offerte. Abbiamo l'offerta qui sull'Alconos, se non avete il prezzo speciale sbloccato passa a 3.200.000, altrimenti col prezzo speciale a 2.400.000, è un buono sconto. Poi abbiamo in offerta anche questo caro armato minuscolo, mini minuscolo, a 1.100.000, quindi metà prezzo. Il thruster, ossia il jetpack, sempre a metà prezzo. Questo è veramente molto divertente come veicolo e potrei pensare di acquistarlo, più che altro perché è divertente, cioè ci sta divertirsi un po' in sessione con quello. Poi come altro veicolo abbiamo Ramp Buggy, sempre in offerta, anche qui c'è la possibilità di prenderlo col prezzo speciale, oppure col prezzo pieno a 1.500.000, oppure col prezzo speciale a 1.200.000. Poi abbiamo veramente un sacco di offerte anche qui su Legendary Motorsport, abbiamo la Italy RSX in offerta, passa 1.900.000 da 2.500.000, veramente una buona offerta. È un'ottima auto, più che altro a me piace un sacco a livello estetico e se vi piace anche a voi vi consiglio di acquistarla adesso che è in offerta. Poi abbiamo lo sconto su tutte le macchine a ruote scoperte, tutti i veicoli Formula 1 insomma per intenderci, tutti in offerta questi due, e poi ci sono anche questi altri due, sempre in offerta, che se ancora non avete vi consiglio di acquistarne perlomeno una, perché hanno veramente una tenuta incredibile, anche se le usate in freemode, fate delle curve veramente velocissime, poi sono velocissime di per sé le macchine, quindi tanta tanta roba. Sul Southern San Andreas abbiamo in offerta l'Abandito, sempre a metà prezzo, quindi se ancora non ce l'avete questa qui, soprattutto per l'Arena War, è in offerta a metà prezzo, veramente un'ottima offerta, perché sapete che qualsiasi cosa a metà prezzo, o comunque da metà prezzo in giù, quindi anche quando è a meno 70%, è veramente un'ottima offerta per acquistare i veicoli. Passiamo adesso alle proprietà, infatti c'è l'offerta sull'Arena War, quindi se volete acquistare l'Arena War dovrebbe essere scontata al 50%, perché come vedete da un milione mi passa a mezzo milione, quindi praticamente al 50% di sconto. Le modifiche non sono scontate, però l'Arena War in sé sì, se vi volete prendere soltanto l'Arena War, intanto adesso è in offerta a metà prezzo e per cui ve la consiglio, infatti come vedete aggiunge 220.000 dollari, le modifiche non sono in offerta, per cui tutto questo qua, tutte le personalizzazioni sono a pagamento, però l'Arena War in sé è in offerta del 50%, quindi anziché un milione l'andate a pagare mezzo milione. Poi un'altra offerta che abbiamo questa settimana sono gli Attici al Casino, vi faccio vedere subito, io già ce l'ho, anche qui solo l'Attico in sé, quindi solo l'Attico base è in offerta del 50%, per quanto riguarda tutte le migliorie invece sono a prezzo pieno. Visto che io già ho l'Attico, tolgo praticamente tutto, perché comunque come vedete l'Attico già ce l'ho, tutto il resto l'ho pagato a prezzo pieno, quindi non mi conviene acquistare le altre cose, però se non avete l'Attico e lo volete comprare, questa settimana ha il 50% di sconto, per cui potete prenderlo. Ma ora passiamo alla roba seria, sapete che a me piace un sacco il Motorcycle Club e soprattutto gli stabilimenti, perché ho iniziato con quello a suo tempo, che c'era solo questo. Infatti questa settimana abbiamo il 50% di sconto sulle Clubhouse, se ancora non avete una Clubhouse io vi consiglio veramente moltissimo di acquistare questa qui che ho io, che è anche quella più economica, e a livello di posizione è veramente ottima, e dopo vi faccio vedere anche perché. E per quanto riguarda la Clubhouse anche qui avete il 50% di sconto, vi dovrebbe venire a costare veramente pochissima questa Clubhouse. Se non erro dovrebbe venire sui 100.000 dollari, non mi ricordo bene perché io già l'ho acquistata, quindi non vedo il prezzo, però credo sia sui 100.000 dollari. Perché vi dicevo che qui è veramente conveniente? Perché qui avete subito accanto il bunker, quindi vi potete comprare il bunker subito qui accanto, avete uno stabilimento, che dopo vi faccio vedere che anche quelli sono in offerta, che si trova qui, un altro stabilimento che si trova qui, che sono i due migliori stabilimenti, e quindi in realtà avete tutto a distanza da meno di un chilometro l'una dall'altra, compresa la Clubhouse. Poi avete la fabbrica delle banconote più o meno qui, in questa parte qui, e quindi i tre migliori stabilimenti sono tutti lì vicino, per cui io vi consiglio veramente tantissimo di acquistare questa Clubhouse, che è comodissima considerando anche tutti gli altri business. Effettivamente sì, mi potete dire ok, con la Clubhouse e con gli stabilimenti non si guadagna più tanto, c'è il colpo a caio perico e quello è vero, si guadagna di più col colpo a caio perico, però considerate che questa settimana hanno messo soldi RP doppi sulle vendite di tutti gli stabilimenti, quindi da quello della metanfetamina, avendo le migliorie al massimo, facevate 420.000 dollari prima, adesso con soldi RP doppi fate 840.000 con una singola vendita. Il mio consiglio personale che vi do, se ancora non ce li avete, acquistateli, in alternativa, se già ce li avete, questa settimana tra un colpo a caio perico e l'altro, che vi andate a fare, ci sono sempre quei 10-15 minuti di tempo per riavviare poi il colpo una volta finito, in quei 10 minuti vi fate la vendita e mentre state facendo l'attività, quindi il colpo a caio perico, lasciate il vostro stabilimento a farmare, vi produce la merce, quindi una cosa del tutto passiva, acquistate solo le scorte, cosa che vi consiglio perché ci sono soldi RP doppi, e nel mentre voi vi fate il colpo a caio perico. Vi assicuro che combinando queste due cose insieme, questa settimana vi fate veramente un sacco di milioni e non per niente, insomma, voglio dire, rango 171 e 69 milioni non ci sono arrivato a caso, ecco. Quindi una volta che avete acquistato la Clubhouse, se ancora non ce l'avete, come vedete questa è la Clubhouse che ho io, questa qui si trova in questa posizione, quella che vi ho fatto vedere, e come vedete ho il bunker qui, ho la fabbrica della meta qui, la fabbrica delle banconate qui e il garage della Coca che si trova qui. Quindi tutti veramente a due passi l'uno dall'altro, quindi è veramente molto comodo anche se avete dei veicoli, se avete magari un veicolo gratis che vi hanno dato a inizio gioco e non sapete magari come fare, vi consiglio soprattutto questo quando iniziate perché è veramente molto molto comodo. Quindi sedetevi qua al computer, da questo computer si fanno tutte le cose per quanto riguarda il Motorcycle Club, però purtroppo raga, io sono in una sessione a quanto pare solo inviti, io pensavo che la sessione crew fosse online, però invece è una sessione solo inviti, quindi non posso accedere al computerino, però comunque vi spiego in breve come funziona, accedete al computer, vi darà l'opzione di acquistare gli stabilimenti, semplicemente vedete tutti gli stabilimenti che ci sono, quelli che vi consiglio sono quelli più economici, però per quelli più economici non intendo l'ufficio dei documenti, evitatelo sempre, non compratelo mai, è veramente il peggior stabilimento, fa schifo, non lo comprate, ve lo dico proprio così, è uno spreco di soldi, uno spreco di tempo, non lo comprate anche se costa poco, stessa cosa la Serra dell'Erba, la Serra dell'Erba già è un po' meglio, quando ci sono soldi RP doppi sulle vendite ancora va bene, però quando li tolgono poi non vi produce tanto, quindi se volete stare a sentire un mio consiglio, se dovete proprio comprare degli stabilimenti vi consiglio prima di tutto il garage questo della Coca che è il migliore, poi vi consiglio il laboratorio della Meta e se proprio volete comprare un terzo stabilimento ma già con questi due siete più che a posto, vi consiglio questa delle banconote, la fabbrica delle banconote, quindi mi raccomando questi sono i tre stabilimenti da comprare, gli altri due evitateli sempre perché non sono per niente buoni, vi fanno perdere un sacco di tempo e non vi fanno guadagnare tanti soldi, già quello delle banconote è un po' borderline nel senso è proprio lì giusto giusto, mentre questi due sono veramente ottimi per guadagnare, se avete soldi solo per uno prendetevi il garage della Coca, affidatevi, è veramente ottimo, è il migliore di tutti e poi magari quando avete altri soldi vi comprate questo della Meta. Per quanto riguarda gli stabilimenti quindi vi posso assicurare si guadagna veramente tantissimo con gli stabilimenti solo che ci vuole un po' di tempo, se volete saperne di più comunque andatevi a vedere i video che ho sul mio canale dove vi ho spiegato più e più volte come funzionano gli stabilimenti, vi ho fatto vedere le vendite e molte altre cose a riguardo quindi se volete basta che andate sul mio canale e vedete i vari video. Poi passiamo adesso alle attività, abbiamo delle attività con soldi RP doppi questa settimana, partiamo subito con quelle, abbiamo anche cose con soldi RP tripli ma ve ne parlo tra pochissimo. Per quanto riguarda soldi RP doppi ci sono tutte queste missioni qua che come vedete hanno soldi RP doppi, lo vedete lì in alto a destra, probabilmente c'è la mia facecam, adesso non mi ricordo bene però ci dovrebbe essere la mia facecam ma tutte queste qui sono tutti con soldi RP doppi, c'è l'iconcina basta che lo vedete, tranne queste al casino, tutte qui queste normali sono tutti con soldi RP doppi, quindi anche queste qui rapimento, inseguitori eccetera eccetera, tutti con soldi RP doppi. Più che altro queste le consiglio giusto a chi sta iniziando a giocare a gt online, a chi non ha soldi per potersi comprare delle attività perché appena vi mettete da parte dei soldi vi consiglio subito di investirli su qualche attività. La migliore su tutte è il cosacca, il sottomarino con cui fate il colpo a caio perico dal quale guadagnate minimo un milione ogni ora, ma minimo minimo proprio. Se volete saperne di più e soprattutto se volete sapere come fare soldi nel 2021 su gt online ho fatto una guida poche settimane fa, c'è il link qua sotto in descrizione, come altri video utili sempre qua sotto in descrizione, basta che li andate a vedere e semplicemente vi spiego tutto nell'arco di pochissimo tempo. Per quanto riguarda invece soldi RP tripli, se vi avviate un vostro CEO voi non farete soldi RP tripli, però i vostri amici che faranno parte, quindi quando andate ad assumere degli associati, se assumete dei vostri amici, i vostri amici guadagneranno il triplo dei soldi rispetto a quello che guadagnavano. Quindi esempio, se la paga è di 5.000 loro fanno 15.000 anziché 5.000. Quindi vi ricordo questa settimana quando fate il colpo col Cosatka a Cayo Perico, avviatelo sempre col CEO, perché avviandolo col CEO se invitate qualcun altro che vi dà una mano a fare le missioni eccetera eccetera guadagna il triplo dei soldi e allo stesso modo anche voi fatemi invitare insomma nel CEO del vostro amico se aiutate qualcun altro. Bene, io spero di essere stato chiaro, adesso manca giusto l'auto del casino che ho ottenuto per ultimo, ma in realtà forse è una delle cose migliori di questa settimana perché è una supercar, veramente ottima, ve la faccio vedere tra pochissimo. Eccola qua raga, guardate che figata quest'auto, veramente top. Questa settimana provatela assolutamente a vincere, veramente tanta tanta roba quest'auto. Vabbè guardate così bianca, guardate come riflette la luce, è veramente una cosa incredibile. Sta proprio qua scintillante. Per quanto riguarda quest'auto, come vedete se l'andate ad acquistare costa 2.500.000 dollari, quindi se la vincete fate veramente un affare perché vi prendete una tra le migliori auto di GTA Online, tra le migliori supercar, completamente gratis, quindi evitate di spendere 2.500.000 dollari. Quindi mi raccomando raga, provatela a vincere, girate la ruota, adesso lo andiamo a girare insieme, vediamo se ho subito una botta di fortuna adesso così mentre che sto registrando il video e veramente tanta tanta roba. Speriamo di vincerla questa settimana, buona fortuna a tutti raga, mi raccomando, provateci perlomeno perché veramente ne vale un sacco la pena. Andiamo subito a girare la ruota, vediamo cosa riusciamo a vincere. Incrociamo le dita raga, vediamo cosa esce, vediamo subito, speriamo nel veicolo, potrebbe darsi, potrebbe o potrebbe non darsi, infatti vestiti, purtroppo mi ha detto male raga, vabbè vestiti. Ci riproveremo domani, mi raccomando vi ricordo potete girare una volta ogni 24 ore, quindi provate a girare la ruota e venite a prendere il bonus giornaliero, già che siete qui, di 1000 fish, così accumulate un bel po' di fish e poi magari vi fate una puntata, riuscite a vincere e raddoppiate i soldi che avete fatto, tanto su soldi gratis insomma, quindi ci sta. Un'altra cosa importante della quale volevo parlarvi, ve l'ho lasciata qui a fine video perché magari non interessa a tutti a inizio video, non volevo disturbare quindi lo dico qui a fine video, che praticamente ho iniziato a portare le live praticamente ogni giorno. C'è magari quel giorno in cui non ho tempo, dove non riesco a fare la live, però generalmente sono in live ogni giorno dalle 18 alle 20 e 30, a volte anche di più, possono variare un pochettino gli orari, non è proprio preciso alle 18 attacco, però più o meno siamo sempre su quell'orario lì. Durante le live potete giocare con me, vi potete abbonare qui su YouTube a partire da 1,99€, con l'abbonamento da 1,99€ che trovate qua sotto, c'è sia il tasto sia il link per potersi abbonare, potete giocare con me in tutte le live, mentre con l'abbonamento argento potete addirittura stare in parti come in ogni live sempre. Poi andate insomma a guardare anche gli altri abbonamenti, ogni abbonamento ha i suoi vantaggi e ci sono scritti. Ed inoltre per chi di voi avesse Amazon Prime, se collegate il vostro account Amazon Prime a Prime Gaming, cioè accedete con il vostro account Amazon Prime a Prime Gaming, tramite Prime Gaming potete collegare il vostro account del canale Viola e praticamente mi potete seguire sul canale Viola, c'è anche il link qui sotto in descrizione. E tramite appunto questo account con Amazon Prime Gaming vi potete abbonare gratis al mio canale, quindi senza spendere un singolo euro, è completamente gratis e potete giocare insieme a me in ogni live, l'equivalente diciamo dell'abbonato pro qui su YouTube. Quindi mi raccomando se avete l'account Amazon andate qua sotto, cliccate sul link del mio canale Viola, vi aspetto veramente in tanti, abbonatevi e possiamo giocare insieme durante le live. Ed inoltre avete anche un sacco di altri vantaggi che potete comunque leggere qui su YouTube per quanto riguarda tutti i vari abbonati. Detto questo spero che passate veramente in tanti nelle live, che siamo veramente sempre un bel po' di gente, ci divertiamo, facciamo attività insieme e tutto quanto e vi ricordo che se volete partecipare a delle attività in particolare basta che fate parte della crew che io spesso e volentieri vi invito tramite la crew. Quindi vi ricordo di entrare nella crew ZAdrimanta6S e vi invito anche tramite la crew. Detto questo vi ringrazio veramente tantissimo per la visione, mi raccomando ripeto lasciate like, condividete il video il più possibile, vi aspetto anche nelle live, dateli è tutto, noi ci vediamo alla prossima, bella!